Allora, signori e signori, abbiamo un ospite eccezionale! Lei, la vincitrice nazionale del Ciao Dracqueen 2019, si chiama così, The Man. Passi eccezionale! And all that jazz, soaring the car, I know a walking spot, where the jenny has flown, But the piazza is just a noisy hall, Where there's a nightly brawl, And all that jazz. And all that jazz, soaring the car, I know a walking spot, where the jenny has flown, But the jenny has flown, But the jenny, the jenny, the jenny, the jenny, the jenny. Mano sinistra solo a piedi e giura di dire la verità Tutta la verità e nient'altro che la verità in nome di Dio Bello Dan Si si era Dichiari la sua generalità prego Verna Kelly Io e mia sorella Veronica facevamo un numero di varietà insieme E il mio marito Charlie viaggiava con noi Nell'ultima parte del nostro numero facevamo 20 esercizi acrobatici 1, 2, 3, 4, 5 Spaccata, aprile a mani spiegate, salto mortale, plic flac, uno di tolac Amore, una sera prima dello spettacolo eravamo all'hotel Cicero Sono Uritrea, spero a zaini, faccio qualche risata E restiamo senza ghiaccio, così io vado a prendere un po' Ritorno in camera, apro la porta E ti trovo Veronica e Charlie che fanno il numero di cessaggio L'aprile a mani spiegate Si vede che sono talmente in stato di shock Che vado completamente in tilta e dimentico tutto È stato soltanto dopo Mentre mi lavavo via il sangue dalle mani Che ho saputo che erano morti Che ho saputo che erano morti Mi dica, signorina Kelly, lei ha batteggiato con l'avvocato Harrison? Magari di archiviare tutte le accuse contro di lei in cambio di questa testimonianza. Ma certo, non sono completamente idiota. Posso farti compagnie? Fui? Guarda che mi hanno dato un certo giorno cioccolatini bellissimi al caramello addirittura da San Francisco. Sto attenta alla linea, sai, il processo. C'era un bello piccolo se l'hai chiesto tre di un oggi, eh? Mi sono usciti talmente tanti che non riesco a raggiungerli tutti. E che ho mai detto che hai esattamente la stessa taglia di mia sorella. Scommetto che i suoi costumi di stare però a pennello. Sui sale? Sì, e stavo pensando, sai, con tutta la pubblicità che è stata fatta su di noi. Quando mi dici per uscire, sarebbe producente se ne dovessimo andare insieme. Lo credi davvero, eh? Sì, e stavo pensando, sai, con tutta la pubblicità che è stata fatta su di noi. I know it's time, of course, but a fact is still a fact. And now all that remains is the remains of a perfect double act. Stai a guardarmi. Te lo devi immaginare con due protagoniste. A due è bellissimo. First I. Then she. Then we. But I can't do it alone. Then she. Then I. Then we'd. But I can't do it alone. She'd say, watch your sister like I'd say, ma'am. She'd say, or if it kept me out, then we'd want to let her out again. When she'd go. I'd go. We'd go. Then those ding-dong daddies started to roar. Whistles stopped. Stamped on the floor. Yelling, screaming, begging for more. We'd say, okay, fellas. Keep your socks up. Cause you ain't seen nothin' yet. Why don't we can't do it alone? Allora, cosa ne pensi? Coraggio, puoi dirlo. Non lo so, è già nella prima parte uno stronzote. Ma la seconda parte, la seconda parte è davvero entusiasmante. Allora, cosa ne pensi? 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 Stupid Johnny stood up round to cure the best, attracted to town, and nearly tall, about many sun. And we say, okay boys, we're going home, but before we go, here's a few more parting shots. And this, this we did in perfect unison. Nice to see you going through it, you make me cry, I'm not the judge, but I'm too pretty, can't I do it again? Hey, I'm not the judge, but I'm too pretty, can't I do it again? Hey, I'm not the judge. Hey, I'm not the judge. Tomeca! Tomeca! Lei è la vincitrice di Ciao Draghi in Italia!